Credo che questo sia un segnale che dice alla politica di affrontare prima possibile questo tema. Peraltro questo è il tema dei diritti civili che è sempre stato presente sia nella campagna elettorale di Matteo Renzi per le primarie sia come tra i primi obiettivi di governo. Questo è un ulteriore elemento che ci dice di fare presto affinché questioni così delicate non siano lasciate nella responsabilità di alcuni tribunali. Le sentenze io sono abituata a rispettarle ma questo non ci impedisce di dire che temi di questa delicatezza debbano essere affrontati in altre sedi che sono le sedi della politica. Certamente se la politica non si assume la responsabilità di decidere poi ci ritroveremo davanti a una serie di decisioni a volte magari anche contrastanti che sicuramente non aiutano ad affrontare in modo organico un tema così delicato.